Anche questa è una tecnica catartica molto forte. Crea un cerchio di energia che porta ad una centratura naturale. Si compone di quattro stadi di 15 minuti ciascuno. Primo stadio. Corri sul posto ad occhi aperti iniziando lentamente e poi aumentando gradatamente la velocità. Solleva le ginocchia il più in alto possibile. Respira profondamente ed in modo regolare per muovere l'energia all'interno di te. Scorda la mente, scordati del corpo, non interromperti mai. Secondo stadio. Siedi a occhi chiusi con la bocca aperta e rilassata. Ruota il corpo dolcemente all'altezza del bacino come una canna di bambù mossa dal vento. Senti il soffio del vento che ti porta da una parte all'altra, avanti e indietro e ti fa ruotare in cerchio. Questo movimento porterà all'ombelico le energie già risvegliate. Terzo stadio. Sdraiati sulla schiena, apri gli occhi e falli ruotare in direzione oraria, tenendo ferma la testa. Lascia che compiano una rotazione completa e molto ampia, come se seguissero la lancetta dei secondi di un grande orologio, ma il più velocemente possibile. È importante che la bocca rimanga aperta e la mascella sia rilassata. Il respiro deve essere sempre calmo e regolare. Questo movimento porterà le tue energie a centrarsi nel tuo terzo occhio. Quarto stadio. Chiudi gli occhi e resta assolutamente immobile.